Sono via già da molto tempo Non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa simile proprio in questo momento Ma andrà tutto bene, vero? Ma certo, vedrete che sicuramente torneranno da noi sani e salvi Hai ragione, dobbiamo avere fiducia in loro, credere in loro Il Team Nightstar Che razza di posto è questo? Non ho mai visto un luogo così tetro Che atmosfera lugubre Questa deve essere la porta di notturnia Fratello! Celia! Aiutami, ti prego, aiuto! Aspettami, ora vengo a salvarti Non osate ostacolare questo rituale O conoscerete la paura e la ruina In nome del sovrano di notturnia Vi trovate nel regno di notturnia Gli esseri umani vi mettono piede molto di rado e molto difficilmente Il regno di notturnia E si può sapere chi siete voi? Io sono destra, guerriero di questo regno E loro sono la mia squadra, il terribile Team Nightstar Sono veramente gli abitanti del regno di notturnia Liberate subito, Celia! Mi spiace, ma non è possibile Ora questa ragazza è la nostra preziosa prigioniera E che cosa vorreste farle? Chiuso nelle oscure profondità della terra Il sovrano di notturnia trarrà energia dalla fanciulla prescelta dalla leggenda E si risveglierà dopo un sonno di mille anni Quando il nostro signore, il sovrano di notturnia, ritornerà Il mondo sprofonderà tra le fiamme della rovina E la civiltà sarà distrutta Per i mille anni successivi, ovunque regnerà il male E il mondo sarà dominato dal nostro sovrano E da noi guerrieri del Dark Team Tu sei la prigioniera prescelta per far tornare in vita il nostro grande sovrano È un grande onore, lo sai? Basta, lasciatela andare! A me non importa delle vostre leggende Io non vi permetterò di farle del male, sono stato chiaro Nei, sembra che questi esseri umani intendano lottare Sì, ma non sanno che cosa li aspetta Credete che vi rideremo la nostra preziosa offerta? Se non volete collaborare, ci riprenderemo, Celia, con la forza Gli esseri umani sfidano gli abitanti del regno di Notturnia Coloro che lanciano una sfida agli abitanti del regno di Notturnia Devono farlo rispettando le antiche leggi di questo regno In altre parole, la vittoria della battaglia verrà decretata con una partita di calcio Incredibile Dunque, volete salvare la prigioniera? Certo, e se vinciamo la partita la riavremo Libererete Celia Volete sfidarci, umani? E come? Aspettaci, Celia Sta tranquilla, ti riprenderemo costi quel che costi Fratello! Ragazzi, fate attenzione! Non ti agitare, tanto faranno presto la tua stessa fine Più spiriti forti riusciremo a raccogliere durante questa sfida Maggiore sarà la forza del nostro sovrano rinato Dobbiamo sconfiggerli per impadronirci del loro spirito combattivo Ma per noi sarà una vittoria molto facile Impossessiamoci della palla Ok! Stanno già venendo a prendersi il pallone Sembra che non abbiano molta paura di voi Quindi sono degli spiriti forti Ti mostro la mia tecnica micidiale Tuono oscuro! Ma che cosa? Oh! 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 Oh no! Oh! Si può sapere come hanno fatto! Quello era un colpo speciale! Axel, ma che cosa ci ha fatto prima? Non ne ho idea Ma allora questi sono veramente degli esseri soprannaturali, secondo te? Pensare a queste cose non serve, ostacola soltanto il gioco Eh? Tu concentrati sulla palla e tutti i tuoi pensieri svaniranno Ok Axel, passala a me! Presto! Rischiamo molto se prima non riusciamo a capire la loro tattica Per il momento limitiamoci ai passaggi e analizziamo il loro gioco Sì, d'accordo! Sembra che vogliano studiare il nostro stile di gioco Che noiosi Troveremo il modo per vincere questa partita Dobbiamo farla per salvare Celia Tanto è inutile! Stare a guardare in che modo giocano A cosa serve? È tempo sprecato Questi tipi hanno solo bisogno di una bella lezione Non mi importa che siano il team Nightstar o come si chiamano Io li voglio affrontare di pretto! Stavolta te la sei proprio cercata! Passa! Poi! Non capisco perché Archer si sovrappone? Volete tenere prigioniera la nostra amica Celia? Io non ve lo permetterò! Vengo anch'io! Diamoci una mossa a sconfiggerli e torniamocene a casa! Però! A quanto pare ci sono dei cattivelli anche tra gli esseri umani Oh, che carini! Caleb! Prendi questo! Colpo finale! Non sapete fare altro? Che delusione, non è vero? Che ti aspettavi dagli umani? E allora andiamo avanti! Schiacciamoli una volta per sempre! D'accordo! Ora basta! Abbiamo scherzato anche troppo! Team Nightstar! In nome del sovrano di Notturnia! Distruggiamo questi umani! Sì! Bravi! Vi credete tanto forti, eh? Mi segneremo un'infinità di gol! Potete contarci! Tanto è inutile! Caleb! Hai tempo anche di preoccuparsi degli altri? Caleb! Harley! Luce di scendente! Archer! Va tutto bene! Destra! Prendete questa! Potenza oscura! Mano di forza! Mano di forza! Povera me! No, non è possibile! Questa è la forza del malo, Mano! Fratello mio! Se volete potete stare ad ammirare il ritorno del nostro grande soprano! Strisciando vergognosamente ai suoi piedi! Ok, la porta di Notturnia è poco più avanti, giusto? Esatto, per di qua! Guardate! Il cielo è strano! È cubo! Chissà se giù dei ragazzi stanno bene! Ma certo che stanno bene! I nostri amici sanno cavarsela sempre! A inizio è secondo tempo! Ragazzi, rafforziamo la difesa! Ok! Aiutami, fratello! Ormai manca poco! Presto il nostro potente soprano sarà di nuovo qui! Dopo mille e lunghissimi anni! Non vedo l'ora! Avanti, Giude! Non abbiamo molto tempo! Purtroppo lo so! Lo so! Me ne rendo conto! In queste condizioni possiamo soltanto continuare a difenderci! Ma Giude! Che noia questa partita! Fermati! Ballone! Malefico! Mettiamo fine a questo incontro! Destra! Ok! Questa devo pararla ad ogni costo! Prendi questa! Potenza oscura! Muro d'acciaio! Cosa? Ha fermato il tiro di destra! Non è possibile! Giude, non vinceremo giocando solo in difesa! Non lo so! Ecco a voi! Luce descendente! Non funziona! Attento, Giude! Sei troppo teso, stai perdendo la concentrazione! Non bisogna dimenticare l'importanza dell'attacco, neanche nei momenti critici! La migliore difesa è sempre l'attacco! Questo me lo avete insegnato proprio voi, che avete battuto la trappola del formica leone! Siete o no la leggendaria Inazuma? Sì, Tiago! Tiago, non vedo l'ora di giocare di nuovo contro di voi! Siete una squadra fortissima, siete l'oro del calcio! Anche voi la pensate come me! Certo, e ora non possiamo proprio perdere una partita come questa! Anche Eric sarebbe dello stesso avviso! Grazie Dylan! Grazie Mark! Giude! Tu sei un ottimo calciatore e la Inazuma è una grande squadra! Però pensare troppo al gioco di squadra può penalizzare il calcio! Come penalizzare il calcio? In certi casi delle personalità predominanti possono cambiare l'aspetto della squadra! Sì! Come dimostra il mago del calcio, il grande Eric! Beh, si gioca! Sì, assolutamente sì! Contro di noi ci sono soltanto i guerrieri del sovrano di Notturnia! Noi siamo più forti! Per un giorno Argentina e Stati Uniti saranno alleati! L'America del Nord e l'America del Sud sarà una grande alleanza! Sì, tutta l'America è con noi! Su, andiamo! Coraggio, si gioca! Come osano destra! Sta cercando di passare parla da solo contro quattro! Non usa solo le gambe, sta difendendo con tutto il corpo! Quando abbiamo giocato contro l'Argentina, la sua difesa era un ottimo muro! E ora che è passato dalla nostra parte, continua a essere fortissimo! Accidenti! Lui sì che è un vero difensore! Ti fermerò! Ehi, su, attento! Ci penso io! Non è finita! Bello scambio, Mark! Sono riusciti a superare la linea di difesa! Dylan sta continuando ad avanzare da solo verso la porta! È decisamente un fuoriclasse! Attento, sto per segnare! Eccomi, ci sono quasi! Colpo sicuro! Ce l'ha fatta! Senza neanche usare il colpo sicuro! In fondo, il compito dell'attaccante è di andare in porta! E poi cercare di segnare in qualsiasi modo! Sì, è questo che deve fare! Un difensore, un centrocampista, un attaccante! In pratica sono riusciti ad andare in rete giocando solo in tre! Quei tre hanno capacità individuali superiori a chiunque! Questi microbi pensano di poterci battere! Ma si stanno sbagliando di grosso! Morinchi! Attacco volante! Che cosa? Vedendo giocare Tiago Torres e gli altri mi sono caricato! Non illuderti, non riuscirai a passare! Dei pure quello che vuoi, ma noi non perderemo! E vinceremo anche la finale del torneo! Tu, Akala! Oh, non ti prendo! Vi facciamo vedere noi! Vinceremo questa sfida! Forte, Caleb! Vai, Austin! Eccomi, Caleb! Avanti, Austin! Dai, possiamo segnare! Non ha importanza chi tira, tanto il risultato non cambia! Axel! Allora tirano loro! Ecco! Ci siamo! Colpo delle sette spade! Ha tirato lui direttamente! Non posso crederci! Ottimo lavoro, Austin! Bravo! Grazie! Non avevo capito che volevi sfruttare noi due per confondere il portiere! Il compito dell'attaccante è di andare in porta e poi cercare di segnare in qualsiasi modo! Te lo ricordi, vero? Caleb, ce l'abbiamo fatta! Sei stato bravo a passare la palla! Sì! E Austin è andato in rete usando il suo colpo speciale! Proprio come immaginavo! Bene! Con questo gol abbiamo annullato il loro vantaggio! Avete visto, ragazzi, che possiamo riuscire a batterli! Certo! Il modo di giocare di Tiago e dei due americani ha cambiato nettamente il corso della partita! Adesso che siamo in pareggio, dobbiamo riuscire a segnare un altro gol! Esatto! Questi umani sono troppo ostinati per i miei gusti! Manca poco al ritorno del nostro sovrano! Non devono interferire! Duono oscuro! Che cosa? Darren, stai bene? Bravo, Darren! Che gran parata! Non è possibile! Jude! Arrivo! Celia! Ti salverò! Vincerò contro di loro! Fratello mio! Voi non sapete contro chi state giocando! Coraggio, dai! Andiamo in porta! David! Calas! Induino imperatore numero tre! Colpo finale! Colpo finale! Colpo finale! Mi sembra impossibile, ma abbiamo perso la sfida! Esatto! Ormai la vittoria è nelle nostre mani! Fratello! Fratello! che questo è un'altra mani! E non lo so! E' una cosa! E' una cosa! E' una cosa! E' una cosa! Benissimo. Ora possiamo tornare ad occuparci del torneo. Dobbiamo ringraziarvi. Grazie a questa partita. Ora per il nostro sovrano abbiamo un omaggio migliore di quella ragazzina. Che cosa? Per merito dei vostri spiriti forti e combattivi, il nostro sovrano si è risvegliato. Cosa state dicendo? Guardate, che starà succedendo? Quel vulcano sembra pronto a derruttare. Speriamo che i nostri amici stiano bene. Secondo voi cosa dobbiamo aspettarci? Ragazzi, ho un terribile presentimento. Il sigillo millenario è stato in fratto. Perfetto. Finalmente è giunta l'ora della distruzione. Io quella voce la conosco. Grazie alla forza dei vostri spiriti, il nostro sovrano è ritornato. E noi Dark Star siamo pronti ad onorarlo. Ma essa è. Essa è, è proprio lui. Nel prossimo episodio irrompe il team Dark Star. Ovvero l'unione tra la squadra di Celestia e quella di Notturnia. Siamo stati noi a permettere il ritorno del crudele sovrano. Lo scontro millenario sta giungendo al termine. Per sapere come andrà a finire, non perdete il prossimo episodio. Nope. Ma lo scontro mill điềumente. Allora, non pari questa scuola.